ecco, dovremmo, io credo, esserci bene bene, 2-3 minuti alle 3 non c'è il 2-3 buonasera a chi si sta collegando dunque, vediamo un po' tanto se capiamo se funziona il collegamento, se sentite la voce, se vedete bene ok vedo che ci sono 9 persone collegate si sente la voce, c'è una buona acustica ok 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 allora, direi che manca un minutino alle 3 ci prendiamo ancora qualche istante per vedere come vanno le cose possiamo dunque oggi saremmo iperpuntuali, anche se in ritardo di una settimana in realtà c'è stato un po' di confusione la scorsa settimana perché avevo annunciato che ci saremmo visti la scorsa settimana ma invece poi l'appuntamento era per oggi quindi ci vediamo adesso e continuiamo quella bellissima lezione che abbiamo iniziato la volta scorsa dal libro dai mondi invisibili del cerchio a Firenze 77 lezione che è iniziata la pagina 219 la si ritrova a pagina 219 oggi riprenderemo quella lezione da pagina 223 del libro dai mondi invisibili non so se intanto siete riusciti a immaginare come si è svolta quella meravigliosa occasione di incontro di tanti tanti anni fa fatemi vedere se per caso ho anche segnato non ce l'ho segnato però 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 forse lo trovo pensate che questa lezione che stiamo leggendo è una lezione datata 3 febbraio 1957 1957 quindi tanti 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 anni fa in questa lezione ci sono i semi di tutto quello che è stato sviluppato poi sul tema dell'assoluto nei successivi 27 anni 28 quasi 28 anni sì 27 anni circa perché per chi conosce per chi è addentro l'insegnamento del cerchio ci ritrova poi tutti gli sviluppi successivi è come se fosse proprio una semina una semina a spaglio per far crescere poi tutte quelle piantine di conoscenza che sono andate fiorendo sulla strada del cerchio Firenze 77 per anni e anni e anni successivamente poi quando si giunge alle tesi conclusive di questo insegnamento che sono state poste negli ultimi tre anni di vita attiva del cerchio Firenze 77 quindi di Roberto Setti che fungeva da strumento a questa esperienza quando si giunge lì si riconosce tornando a leggere queste pagine iniziali si riconosce come fosse chiarissimo fin dall'inizio il progetto didattico per queste guide che hanno accompagnato queste persone che partecipavano allora al cerchio Firenze 77 che allora non si chiamava così, non aveva un nome, non c'era un motivo allora perché avesse un nome queste persone le hanno accompagnate per tanto 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 tempo, per tanti anni con una progressione didattica meravigliosa oggi vedere l'insieme di questo progetto didattico è qualcosa che sbalordisce per la sua precisione, accuratezza, questa progressione delicata per permettere di fare propri certi concetti una visione diversa della vita, una visione che si distacca completamente da quella nostra consueta che abbiamo perché la precisa la spiega e indica per quale motivo la visione che noi abbiamo della vita la realtà così come noi la sperimentiamo è questa, è proprio questa nella quale siamo immersi e ci permette di intravedere dietro le soglie del mistero della vita tanto per stare insieme anche al nome dello spazio che ci ospita ha voluto Anna Tamburini Torre all'interno di Focus 3.0 appunto il mistero della vita qui con i maestri del cerchio il mistero della vita lo sveliamo noi lo sveliamo, anche lo sveliamo noi lo hanno svelato a noi mettendoci in condizioni di capirlo però ci anche addentriamo dentro le cose un pochino più articolate, più complesse non complicate ma complesse che vuol dire articolate anche su altri livelli cioè cercano adesso in questa seconda parte di questo breve capitolo dedicato all'introduzione dell'assoluto del tema dell'assoluto, le guide cercano di allargare il tema alle nostre esperienze alle esperienze che facciamo noi del divino nella nostra cultura, con le nostre religioni con le nostre visioni che partono da qua, quindi da un limite noi siamo esseri limitati e possiamo esprimere noi stessi solo attraverso dei limiti e confrontarci con questi limiti molte delle visioni che abbiamo, delle religioni, delle chiese, delle filosofie si confrontano con questo limite hanno a che fare con un'ideazione mentale che nasce inevitabilmente da questo limite di cui noi siamo i rappresentanti allora io riprenderò la lettura da pagina 223 siamo come dicevo nel libro Dai Mondi Invisibili da Cerchio Firenze 77 e siamo nel capitolo dell'assoluto e riprendo da qualche riga prima dal punto dove siamo arrivati circa metà pagina dove c'è la conclusione della lettura precedente perché quella si lega bene con quello che andremo adesso a leggere che ci chiederà uno sforzo d'attenzione in più bisogna però un pochino abituarsi perché le cose di cui parliamo sono veramente ponderose sono la portata di tutti possiamo farle diventare nostre un poco per volta abituandoci a questo linguaggio e a questo livello di rivelazione dice il maestro Kempis Sì, ti conosco, Signore Tu sei l'anziano degli anziani Tu eri prima che l'uomo fosse Aspettate che non vedo nessuna traccia della vostra presenza però Ci siete? Se ci siete mandate un cenno scrivete qualcosa scrivete che sentite perché non vedo proprio Allora, vediamo un po' Se levo questo Ma io spero che mi sentiate Dato che non ho indicazioni il mio amico Nicola non mi dice niente vuol dire che va tutto bene Forse Allora Riprendo la lettura Ti conosco, Signore Tu sei l'anziano degli anziani Tu eri prima che ogni cosa fosse Tu sei ciò che sopravvive perché sei colui che è L'espressione Colui che è Essere colui che è Tu sei colui che è Dio è colui che è È una formula estremamente sintetica che è piena di significati in realtà e tutti questi significati siamo in grado di coglierli nel momento che abbiamo messo un po' di nozioni ancora dentro di noi Molte ci sono già state date attraverso le frasi che abbiamo letto precedentemente Ma intanto Essere colui che è vuol dire essere in una condizione di non di divenire ma appunto di essere Significa essere al di fuori del tempo essere non essere sottoposti a quella scansione temporale del divenire di cui noi facciamo esperienza che fra l'altro ci descrive il cambiamento questo cambiamento del vivere che noi facciamo continuamente questo trasformarsi questo passare Essere colui che è vuol dire essere nella presenza nell'infinita presenza e nell'essenza nell'essere e non nel divenire Tutto tu sei uno dai mille volti sei il raro gesto pietoso del sanguinario e il dubbio maligno dell'illuminato anche queste sono come pensate questo dio questo assoluto di cui ci parlano è sia nel gesto pietoso del sanguinario raro gesto pietoso del sanguinario ma anche da un punto di vista dell'illuminato colui che sa il dubbio che gli nasce viene chiamato il dubbio maligno tu sei la naturale provvida difesa e l'esterna maligna infiltrazione sei l'endogena forza che edifica e l'erosione che leviga sei oltre ogni umana parola gli uomini hanno sempre attraverso le religioni tentato in qualche modo di dare una descrizione del divino lui ci dice sei oltre ogni umana parola ogni umano concetturare che muta nel tempo e nello spazio perché sei l'immutabile e prosegue poi con Dali che dice beato un vero figli cari chi va oltre il suo poliedrico aspetto e si annulla in lui trovando un tutto un vivido tutto senza incertezza né vani ricordi illimitata consapevolezza dell'eterno presente eterno presente Alan ciò significa che in lui tempo e spazio non esistono stiamo già dicendo che il tempo e lo spazio sono dimensioni nostre il tempo e lo spazio di cui noi facciamo esperienza sono le nostre sono le nostre condizioni ma non sono in Dio non è la sua condizione di esistenza il tempo e lo spazio Claudio egli è infatti coscienza assoluta e questa coscienza si estende nel vostro tempo e nel vostro spazio in modo tale che di fronte ad essa ogni limite sul quale si svolge la teoria del tempo e dello spazio si annulla coscienza assoluta vuol dire la coscienza di tutto quanto esiste che è anche incontenibile dalla nostra mente una dimensione come questa la dimensione del tutto quanto esiste ok dico a non so se c'è qualche tecnico che se ne deve occupare che io non ho nessun riscontro di vostra presenza con messaggi con indicazioni o altro e anzi pregherei magari o Anna se è in linea oppure Enrico Ballantini oppure Nicola Ferrentino di mandarmi un whatsapp per dirmi che sta procedendo tutto regolarmente proseguo nefes solo quello che è finito si può misurare anche questa è una cosa straordinaria è vero si può misurare solo quello che è finito perché quello che è infinito ovviamente non se ne può prendere una misura ciò che è infinito resta infinito ogni qualsiasi unità di grandezza si adoperi al raffronto fratello orientale ok bene ora levo il sonoro vuol dire che so che ci siete vado avanti fratello orientale il tempo lo spazio sussistono finché sussiste come minimo una dualità qui là oggi ieri esprimono una stessa dualità avente aspetti diversi cioè qui il punto qual è che quando si parla della dimensione dell'assoluto non c'è una dualità non ci può essere una dualità una realtà duale prevede che ci sia una cosa e l'altra cosa che è la non cosa cioè io sono io e poi c'è tutto quello che è il non io cioè che è distinto da me questa è la dualità la dualità è fatta come minimo di due cose e naturalmente due cose messe a confronto fra di loro si limitano l'una all'altra una è relativa all'altra e viceversa quando si parla di assoluto la dualità non esiste perché comprende il tutto e quindi non c'è qualche cosa di contrapponibile all'assoluto allora qui dice il fratello orientale il tempo e lo spazio sussistono finché sussiste come minimo la dualità ed è quindi la nostra condizione di esistenza noi siamo nella dualità nella dualità c'è il tempo e lo spazio la dualità che si esprime anche con qui là quindi spazio oggi eri tempo questi esprimono sempre dualità cioè la base del concetto è sempre lo stesso però con aspetti diversi campis l'espressione grafica e qui si va negli aspetti esoterici di una volta l'espressione grafica di questa dualità è la croce ovvero sia due segmenti diretta perpendicolari fra loro per esprimere che la dualità è unica pur avendo aspetti diversi questo simbolo la croce è un unico simbolo che indica una dualità verticale e una qualità orizzontale però è sempre la stessa dualità che ha questi aspetti diversi colleganti a due o due opposti quattro punti i quali significano i termini della dualità qui là ieri oggi paracelso la croce simbolo di quaternario significa appunto per gli antichi saggi il tempo e lo spazio questo è il simbolo della croce noi il simbolo della croce l'abbiamo utilizzato in un altro modo vi abbiamo visto nella cosa parlo noi intendo nella nostra religione la religione del paese nel quale viviamo la religione cattolica questa religione ha preso questo simbolo come simbolo di se stesso ma ha preso come simbolo di dolore proprio si è completamente dimenticata di questo aspetto invece simbolico del tempo e dello spazio Claudio ma oltre l'ultima e prima dualità laddove è il primo numero della serie dove l'unità del tutto appare priva di veli non esistono tempo e spazio perché lì la dualità non c'è cioè oltre la prima dualità che si forma qual è la prima dualità che si forma noi abbiamo più volte già nelle lezioni trascorse abbiamo visto come questa nostra condizione è una condizione in un certo senso illusoria in cui noi ci percepiamo in un certo modo immersi in un certo tipo di realtà dove esiste la dualità esiste la separatività esiste guardare una realtà intorno a sé pensare che esista come staccata da sé senza sentire in realtà il cuore di questa esperienza che io e questa stessa realtà che vedo intorno a me siamo una medesima cosa no questo restano un po' parole per noi perché poi la realtà con la quale ci confrontiamo è duale è inevitabilmente duale perché questa è la nostra natura ma perché ci sia questa manifestazione così fatta c'è stata una prima qualcosa che ha dato un inizio a questa esperienza un inizio virtuale non un inizio nel tempo un inizio nella logica di questo sviluppo evolutivo questo inizio è ciò che ha determinato poi a cascata tutti gli effetti per cui noi oggi facciamo un'esperienza di questo tipo dentro la realtà ma un'esperienza duale e separativa separativa da tutto ciò che sta intorno ad ognuno di noi ebbene dice prima di questa fase iniziale della prima dualità non esistono laddove dice l'unità del tutto non la dualità ma l'unità del tutto appare priva di veli non esistono il tempo e lo spazio Alan per voi il tempo e lo spazio esistono finché esiste l'illusorio senso di separatività fino a che la vostra coscienza è limitata quindi già un altro elemento è la limitazione della coscienza che determina il fatto che noi possiamo vedere solo parzialmente la realtà e in maniera distorta illusoria quindi il fatto che noi siamo esseri limitati da un punto di vista della coscienza ancora da fare da maturare avendo una coscienza limitata e quindi relativa ci confrontiamo in modo relativo con ciò che esiste ne possiamo percepire una quota una parte e confrontarci con questa parte senza essere consapevoli che in realtà apparteniamo a una unità Dali vedete gli oggetti diversi nel colore e nella forma né misurate le dimensioni e la distanza che li separa supponiamo che per un istante i vostri occhi acquistino la capacità di vedere la struttura intima della materia poniamo questo anche solo fino allo stadio di elettroni e protoni anche solo fino a quello stadio là che non è poco ed ecco che ogni oggetto e ogni distanza sparirebbero in una visione di punti giranti intorno a vari nuclei centrali se noi acquisissimo quella visione scomparirebbe il mondo e noi sappiamo la nostra scienza la fisica la chimica tutte le scienze che conosciamo che utilizzano strumenti che sono prolungamenti dei nostri occhi ci permettono di vedere quel mondo attraverso quegli strumenti quindi noi sappiamo che la realtà che noi vediamo intorno a noi la realtà di questo stesso computer o telefono che stiamo utilizzando in questo momento per questa nostra connessione noi sappiamo che non esistono perché se scendiamo a livello un po' più profondo di che cosa costituisce queste materie con le quali ci confrontiamo e che vediamo intorno a noi scompaiono sarebbe una miriade di puntini vorticanti fra di loro dove gli oggetti scompaiono nelle loro forme anzi più che c'è densità nella materia così come la conosciamo noi e più che c'è vuoto dentro questo universo fatto di puntini miriadi miriadi puntini vorticanti che sono quelli visti a una certa sottigliezza sono quelli che costituiscono queste materie queste realtà ma siamo solo a livello di neuroni e protoni se scendiamo ancora più in basso se andiamo nelle particelle sottili nella dimensione ondulatoria proprio scompare tutto quello eppure noi sappiamo che le cose stanno così la nostra scienza ce lo dice ce lo spiega ci dà delle dimostrazioni però noi siamo ormai abituati il senso comune ci fa vedere le cose per come sono il nostro corpo lo tocchiamo lo vediamo e quindi per noi siamo effettivamente reali ed è reale il mondo che ci circonda Claudio dice per l'individuo il problema del tempo e dello spazio è relativo a se stesso l'individuo ne ha coscienza per i limiti che questo tempo e questo spazio gli impongono quindi tempo e spazio sono collegati direttamente agli individui e questa espressione di sé che avviene attraverso tempo e spazio con queste limitazioni determinano questa realtà e impongono anche i limiti con cui ognuno di noi si confronta perché tempo e spazio ovviamente rappresentano un limite se io voglio andare da qua a là devo coprire quella distanza e la devo coprire in un certo tempo non posso simultaneamente essere qui ed essere là la materia impone dei limiti ma questi limiti nascono affiorano dal fatto che noi siamo esseri relativi che possiamo sperimentarla solo attraverso dei limiti perché se potessimo sperimentarla in maniera diversa non saremmo quello che siamo in questo momento Alan vi possono essere due oggetti in qualche parte del globo lontano da qui separati fra loro da un certo spazio ma non è quello che vi limita a meno a meno che non entriate in relazione con quegli oggetti Campis possiamo quindi dire che per l'individuo tempo e spazio esistono esattamente in ciò e per ciò che lo limitano se c'è qualche cosa se possiamo immaginare degli oggetti che sono fuori dal nostro come dire raggio d'attenzione di visione di conoscenza e fra loro sono c'è uno spazio c'è una distanza no? se siamo nella relatività sarà anche una distanza ma poniamo misurabile ma non ci riguarda non è quello spazio non è neanche lo spazio che ne so fra me dove sono adesso e Milano non è in un certo senso un limite da questo punto di vista ma la mia esperienza di essere limitato ha a che fare con questi limiti che mi fanno vivere il tempo e lo spazio mi impongono di transitare dentro la vita secondo queste modalità Dali da cui se ne deduce che tutta la questione rimane imperniata sulla separatività guardate questa è una frase che questo fatto della separatività andrebbe assolutamente sottolineata fare un bel cartello metterselo dove gli occhi ogni tanto passano per ricordarsi che la nostra esperienza esistenziale è tutta basata sulla separatività esistenziale nel senso di proprio di confrontarsi con la realtà nella quale siamo immersi noi ci sentiamo separati da tutto quanto esiste e ci sentiamo separati perché c'è una distanza spaziale fra me e ciò che sta oltre di me oltre la guaina fisica del corpo che mi delimita c'è una distanza c'è altro io occupo uno spazio con questo corpo e poi c'è lo spazio che mi divide dagli altri corpi qui si determina l'elemento della separatività Claudio se infatti voi foste uniti con il tutto sareste in ogni oggetto e in ogni creatura e nella distanza che li separa ed ecco allora che lo spazio per voi non sussisterebbe più se tu sei e il tutto sei sia quello che senti come te stesso sia ciò che sta intorno a te come spazio come oggetti anche se appaiono distanti da te e anche sia come distanza l'aria che sta fra qui e là saresti tutto quello che c'è e quindi sparirebbe lo spazio inteso in questo modo lo spazio non sussisterebbe più perché saremmo dovunque se noi sentissimo di essere uniti al tutto fratello orientale se poteste vivere in un unico presente pensate questa questo richiede un piccolo sforzo mentale ma ci si può arrivare se poteste vivere in un unico presente ogni istante della vostra vita in un unico presente noi siamo abituati a vivere attimo per attimo la nostra vita l'attimo appena trascorso per noi è entrato nel grande contenitore del passato e quindi per noi non c'è più ma pensate che tutta questa vita che c'è stata attimo per attimo distinto l'uno dall'altro potessimo vivere ognuno simultaneamente a tutti gli altri in una condizione di presente cioè in un attimo presente tutto vibrante vivente esattamente così come ci percepiamo in questo caso il tempo non sussisterebbe più campis così è nell'assoluto è così che funziona nell'assoluto nell'assoluto nella condizione di eterno presente in ogni attimo ma è un attimo badate bene è un attimo che non è che noi siamo abituati a pensare all'attimo e subito dopo quell'attimo non c'è più no è un attimo che c'è fuori dal tempo dove è tutto presente in quell'istante in quell'attimo in quel frammento è presente tutto tutto simultaneamente vibrante presente non divenente il tempo non c'è più così è nell'assoluto dice campis ogni episodio del passato o di quello che voi chiamate futuro vive in lui in un eterno presente un eterno presente significa precisamente questo che è tutto presente simultaneamente senza tempo il tempo non scorre non c'è il tempo sono i protagonisti dei singoli episodi che non potendoli vivere contemporaneamente che questo è il nostro limite appunto hanno l'illusione del tempo e dello spazio campis ma colui che spostando la propria attenzione consapevolezza coscienza dai piani più densi a quelli più sottili con penetranti che si gli uni negli altri rende la stessa coscienza assoluta prova il cessare del tempo e dello spazio questo è un esempio per far capire non è una cosa alla nostra portata perché noi essendo esseri limitati che funzionano in questo modo possiamo sperimentare l'esistente con questa modalità Claudio fino al piano mentale esattamente alla regione della forma possiamo trovare una successione nei pensieri e una proporzione nelle immagini mentali che in un certo senso possono esprimere qualcosa di simile al tempo e allo spazio la regione della forma voi vi ricordate avrete sicuramente letto ripassato studiato quello che abbiamo letto fino a adesso la regione della forma è quella l'area della percezione fino al piano mentale e quindi tutta la parte fisica la parte delle sensazioni i desideri i sentimenti i pensieri vi dicendo anche i pensieri si esprimono attraverso delle forme pensiero cioè io posso pensare immaginare delle forme con la mia mente ecco fino lì possono esprimere qualcosa di simile al tempo e allo spazio fratello orientale ma già nella regione della non forma vi è un profondo mutamento la regione della non forma si va verso il piano acasico vi ricordate vi è un profondo mutamento le idee archetipe contemplano determinati requisiti ma non hanno dimensioni né grandezze cioè vi sono dei requisiti cioè delle caratteristiche ma non hanno dimensioni né grandezze campis la ragione pura è come un punto geometrico punto geometrico non ha una forma ala il tempo e spazio esistono laddove e sin dove esistono le forme oltre si annullano in un infinito presente e in un'eterna presenza si annullano in lui che è coscienza assoluta al di là di questa formazione di annullarsi in lui che è coscienza assoluta è un passaggio logico molto semplice anche se 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 c'è bisogno della dualità perché esiste il tempo e lo spazio la dualità significa il confronto fra qualche cosa se c'è una forma questa forma deve avere a che fare con ciò che sta intorno alla forma per vedere una forma devo mettere qua questa forma osservarla in quanto tale e vederla chiusa in se stessa cioè relativa a se stessa formata in qualche modo se prendo un qualsiasi oggetto un libro un libro dov'è no così eccolo qua il libro ha una forma il libro ha una forma per distinguere il libro da tutto il resto vedo dove è il confine del libro dove è il limite del libro e poi c'è quello che sta intorno giusto nel momento che qualcosa ha una forma si delimita dentro una forma c'è anche quello che gli sta intorno e quindi siamo nella separatività e quindi c'è lo spazio occupato da quella forma la forma libera occupa uno spazio e poi c'è quello spazio che invece è lo spazio che sta fra quella forma e un'altra forma si introduce inevitabilmente il tema spazio il tema spazio è inevitabilmente introdotto da qualsiasi forma se introduco il tema spazio introduco la dualità non può essere altrimenti da così e quindi rileggendo quello che abbiamo detto già nella ragione scusate tempo e spazio esistono laddove e sin dove esistono le forme perché se c'è una forma che crea un limite spaziale sia dallo spazio occupato da quella forma oppure lo spazio che c'è fra quella forma e un'altra forma sono due modalità spaziali diciamo così se c'è questo se quella forma vuole avvicinarsi all'altra deve trascorrere un tempo si introduce l'elemento tempo e spazio mentre dice Alan oltre oltre le forme si annullano in un infinito presente e in un'eterna presenza se non c'è il tempo la presenza è eterna eterna vuol dire assenza di tempo vuol dire un tempo che non finisce mai vuol dire assenza di tempo la stessa cosa per quanto riguarda lo spazio infinito presente e infinita presenza cioè essere infiniti senza forma tutto questo quindi tempo e spazio si annullano in lui che è coscienza assoluta mentre noi per quanto riguarda noi parliamo sempre di coscienze relative Dali egli è il tutto è unione del tutto se non c'è la separatività tutto quanto è unito egli tutto conosce poiché tutto palpita e vive in lui e per lui è tutto vivente è tutto lo stesso organismo vivente questa immensa coscienza vibrante di cui noi siamo un frammento di esistenza fratello massone uno strumento musicale pur non avendo orecchi sa quali note il musicista sta suonando Kempis egli conosce non per acquisizione ma poiché tutto quanto è è per lui è per le sue leggi per le sue leggi in questo in questo senso vuol dire in virtù delle sue leggi quindi non è che che l'assoluto conosce perché acquisisce delle cose ma perché è in tutto ciò che esiste che vibra in ognuno di noi e in qualsiasi altra cosa che possiamo immaginare e vedere intorno a noi Claudio no Alan quando un essere vive dice Alan egli non può non sapere in quanto è lui stesso che gli dà vita se egli non sapesse l'essere non esisterebbe pensate trasportate questo su di noi su di me io esisto in quanto questa coscienza assoluta mi dà vita e quindi mi conosce sa cosa sono perfettamente anche meglio di me ma non per una perché sta lì a guardare come mi comporto no perché sono un'espressione di questa coscienza se lui non sapesse niente di me io semplicemente non esisterei quindi c'è una connessione ininterrompibile fra ognuno di noi e la coscienza assoluta siamo collegati siamo parte di Dio siamo costantemente in Dio Claudio quando una creatura accetta o respinge una realtà egli non può non sapere in quanto è lui stesso che è accettato o respinto qui si parla di mentalmente Dani e così è per tutto senza limiti di tempo e di spazio perché tutto è egualmente presente in lui Alan da ciò non dovete essere tratti in errore e pensare che tutto sia prestabilito e niente la creatura possa decidere d'arbitrio questo è un punto delicato che credo che alcuni potranno già coglierlo per altri forse ci vorrà un minimo di ancora di elementi di tempo per farlo proprio questo concetto se aveste però l'esempio aiuta un po' che fa adesso Alan se aveste una forte memoria potreste raccontare la vostra passata esistenza nei minimi particolari senza tangere in questo ricordo conoscenza quello che fu il vostro arbitrio cioè le scelte che avete fatto allo stesso modo in lui ove passato e futuro sono eterno presente vi è tutto quanto le creature saranno portate a fare ivi compresi gli arbitri senza che questo arbitrio sia toccato o manomesso dal fatto che lui sa capite quindi siamo tra virgolette molte virgolette poi più avanti approfondiremo meglio questo tema della libertà ma siamo possiamo agire pur essendo in dio non perché c'è un destino scritto per noi ma agiamo per come siamo fratello orientale così come voi sapete quello che avete fatto lui sa quello che farete perché è già stato fatto perché è già fatto non stato fatto di nuovo ci riporta in quell'errore mentale non è che qualche cosa che è scritto viene fatto nel momento ma il momento è eterno presente quindi in qualsiasi momento in questo eterno presente avviene ciò che deve avvenire e non perché c'è un destino programmato ma perché avviene ciò che deve avvenire in questo eterno presente e noi siamo consapevoli solo di un frammento cioè di un attimo per volta di questa esperienza che a noi sembra procedere nel tempo mentre invece è tutta già nell'eterno presente Kempis ma questo lui questo lui intendendo l'assoluto non può essere localizzato se non nel tutto è nell'aria stessa che respiriamo nelle stesse materie che ci compongono nello spirito che ci evolve fratello Massone è l'infinito matematico che mai ha valore finito che tu sottraga addizioni divida o moltiplichi adesso un numero finito Kempis egli quindi è il tutto pur non essendo la somma del tutto tutto è perché non essendo la somma del tutto la somma del tutto sarebbe qualcosa di finito invece la somma del tutto è una come dire una dimensione poi c'è la trascendenza di questa dimensione che non fa coincidere il tutto con la somma del tutto il tutto è trascende la somma del tutto tutto è in lui pur non essendo sua parte costituente lui è in tutto pur conservando i suoi caratteri assoluti fratello orientale se un microbo fosse annullato un intero sistema cosmico cadrebbe capite come tutti quanti i migliori i peggiori i reprobi le cose di tutti i tipi che vediamo accadere a cui noi diamo poi categorie di massimo di minimo di bene di male di bello di brutto e via dicendo tutto quanto è essenziale nel cosmo tutto quanto partecipa di quel cosmo e siccome tutto quanto fa parte del tutto e il cosmo è come dire la prima abbiamo visto la prima illusoria separazione da Dio ma è qualche cosa che è unitario in se stesso non può mancare neanche un microbo altrimenti quell'unità svanirebbe eppure dice sempre il fratello orientale non un intero cosmo accrescerebbe di un infinitesimo ciò che lui è la rilego questa frase che è bellissima se un microbo fosse annullato un intero sistema cosmico cadrebbe eppure non un intero cosmo accrescerebbe di un infinitesimo ciò che lui è Claudio per comprendere queste parole dovete dovete demolire l'errato concetto che avete di Dio ampiamente dimostrato dal concetto che avete del miracolo il concetto che abbiamo di Dio viene dimostrato attraverso il fatto che ci aspettiamo dei miracoli e quando vediamo qualche cosa di straordinario pensiamo al miracolo pensiamo che Dio ha fatto un miracolo Alan in questo modo aggiungo io ne fate un individuo a vostra immagine e somiglianza siete di fronte a lui nell'esatta posizione di un selvaggio di fronte ai miracoli del progresso scientifico in effetti noi insomma un po' tutte le culture tengono ad affermare che Dio è che l'uomo è a immagine e somiglianza di Dio che è come dire la stessa cosa che Dio è immagine e somiglianza dell'uomo Dali attribuite al suo intervento solo i fenomeni inconsueti e inspiegati ma una volta scoperta la legge che regola e determina quel fenomeno credete di aver trovato chissà che cosa la considerate a sé stante da Dio e irridete a chi credeva in quell'opera divina è un modo molto umano di ragionare anche comprensibile Kempis vi servite della vostra scoperta come di un'arma per combattere la sua esistenza come se la legge potesse esistere in sé e per sé o fosse una proprietà della materia questo che andremo a leggere adesso è una serie di interventi è molto interessante perché è una visione è quella visione che con il tempo ha distinto la dimensione spirituale dalla dimensione scientifica prima spirito e scienza erano uniti e quindi c'era questa profonda unione ognuno sapeva che erano due parti della stessa realtà adesso poi le due strade le due discipline hanno preso strade diverse e quindi sappiamo che la scienza ha la pretesa di attribuire certe leggi che scopre ha dei fenomeni come se fossero leggi a sé stanti qui adesso ci viene data una diversa possibilità di leggere questa questo rapporto che c'è tra i fenomeni e le leggi Claudio laddove non vi è mistero questo è bellissimo perché noi non possiamo contenere Dio nella nostra mente ovviamente possiamo farci come dire fare un percorso logico che ci aiuta a collocare dentro di noi in qualche modo qualche cosa che non è contenibile dalla nostra mente dice Claudio laddove non vi è mistero dove tutto è chiaro e spiegato dalle leggi voi non trovate Dio Alan egli avrebbe creato la legge unicamente per limitare gli uomini ignorandoli completamente nell'attuazione dei suoi imperscrutabili disegni questo no un po' in varie religioni si dice Dio ha i suoi imperscrutabili disegni su di noi Campis e invece le leggi e i principi sono sua emanazione orditura del suo cosmo intelaiatura del suo emanato espressione della sua esistenza Claudio il fenomeno pensate com'è il fenomeno dell'acqua che si sublima in vapore e del vapore che si condensa in acqua non è una proprietà della materia acqua ma è determinato e regolato da una legge che ha un ben preciso compito della conservazione dell'ambiente favorevole per la manifestazione della vita quindi non è una legge collegata a un fenomeno a sé stante ma ha uno scopo evolutivo ha uno scopo completamente altro da quello che la scienza ritiene che abbia Campis una legge presa a sé è fine al fenomeno che regola vista in funzione dell'emanato acquista la sua reale ragione di essere ed è una chiara testimonianza all'esistenza di una volontà universale che tiene in vita l'emanato stesso Paracelso l'emanato non può morire perché è espressione della vita assoluta questa è una buona notizia ogni tanto ci domandiamo che fine farà l'uomo questo mondo che sperimentiamo questo mondo che sperimentiamo è il frutto della nostra limitazione ma sia questo mondo che sperimentiamo sia la nostra limitazione e noi stessi facciamo parte del tutto e quindi essendo espressione della vita assoluta la quale in una condizione di eterno presente non cessa mai perché non è mai iniziata Kempis la vita non è il risultato di fortuite circostanze le quali come frutto del caso dovrebbero avere un carattere instabilissimo se fossero frutto del caso il caso è qualcosa di instabile e quindi le cose la realtà le leggi che noi sperimentiamo sarebbero del tutto instabili ci troveremmo continuamente cambiato qualche cosa perché non avrebbero quella solidità che invece hanno perché provengono da Dio dall'assoluto dovrebbero avere un carattere instabilissimo e tendente alla disgregazione ma come ci dimostra la naturale forma di difesa di ogni vita è conseguenza di un'unica esistenza che si conserva esistente e immutabile attraverso alle infinite trasformazioni Dali le leggi dunque sono le condizioni per le manifestazioni della vita e dell'emanato queste sono le leggi di cui la scienza si è appropriata come inerenti esclusivamente ai fenomeni che dimostrano questa vita rappresenta l'esatto equilibrio fra la capacità di adattarsi all'ambiente e quella di adattare l'ambiente a se stessa che non dà una fissità ma un movimento chiamato evoluzione di questo si tratta campis erra quindi la religione predicando un dio antropomorfo ed estracosmico dio là e noi qua in questo mondo ed erra la scienza considerando i principi e le leggi che scopre fini ai fenomeni che regolano l'iddio di una tale religione si dimostrerà inesistente il retaggio di una simile scienza sconclusionato e incapace di dimostrarci l'unità del tutto e l'esistenza del vero dio si ti conosco signore tu sei l'anziano degli anziani tu eri prima che ogni cosa fosse tu sei ciò che sopravvive perché sei colui che è qui direi proprio che ci dobbiamo fermare ci dobbiamo fermare perché poi si prosegue ancora un poco con questa parte dedicata all'assoluto in questo bellissimo libro ma sono le pagine proprio conclusive adesso credo forse con la prossima lettura o al massimo due arriveremo alla conclusione di questa parte dell'assoluto che è come dire introduttiva ai concetti che verranno meglio esposti negli anni successivi al 57 dalle guide del cerchio firenze firenze 77 ora a me dispiace un pochino io non so come si fa qui io non riesco a vedere i vostri interventi andiamo qui dove c'è scritto commenti se dice qualcosa ma mi sembra di no vedo domande non so proprio come non so non so come si può fare non so se è qualche cosa che dipende da me oppure se se dipende da qualcos'altro vediamo provo a capire se c'è un modo di vedere le vostre la vostra partecipazione se premo questo non saprei proprio direi direi di no e non so neanche proprio come come fare credo che magari ci sia qualche domanda vostra ma non riesco a leggerla non so non so dove sia non so non so come agire su questo strumento questo questo allora io provo a premere qualche tasto dunque innanzitutto innanzitutto segnatevi chi è interessato queste date così non faremo allora mi dicono tutto ok non riesce a vedere i commenti no noi ti vediamo e sentiamo bene questo mi fa piacere allora chi vuole si può segnare queste date sono le date che abbiamo stabilito con 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 Anna Tamburini Torre e sono il prossimo sarà il 7 di maggio alle 21 e 30 poi abbiamo ancora il 21 maggio alle ore 15 poi faremo il 4 giugno di nuovo alle 21 e 30 vedete sono alternate l'uno all'altro poi il 18 giugno alle ore 15 e l'ultima dovrebbe essere il 2 di luglio alle 21 e 30 poi non sappiamo se ci fermiamo lì per l'estate per le vacanze che tutti ci auguriamo di poter fare quest'anno oppure se andremo avanti ancora un po' in luglio non lo so questo vedremo più avanti ve lo sapremo dire sicuramente prendete appunto di questo i commenti purtroppo questo giro non sono comparsi e non so per quale motivo adesso io provo a premere qualche pulsante se per caso premendo uno di questi pulsanti scompare tutto ci salutiamo e ci vediamo tranquillamente il 7 di maggio perciò intanto vi ringrazio di essere stati con me poi aspettate ancora un attimo perché vediamo se io premendo qualche cosa salva questo o annulla questo vediamo un po' no così non è successo niente proviamo a fare così viene il titolo che io ho messo poi provo a premere questo qui quindi dice visita il gruppo no direi di no qua neanche non so proprio in che modo esservi utile e anche essere a me stesso utile configurazione dello streaming opzioni per la dashboard vediamo un po' aggiungi strumenti schermo intero altro grafica taglia di video no configurazione dello streaming il tuo video sarà condiviso questo non ci interessa ok poi vediamo un po' qui niente dashboard tantissimi spettatori perché non li posso vedere reazioni vediamo un po' condivisioni commenti vediamo se riesco qua azioni rimuovi apri vedo che ci sono stati 57 interventi mi dispiace moltissimo non potervi dedicare il tempo che meritate ma non so proprio come fare proviamo qui opzioni per la dashboard e proviamo questo aggiunge strumenti schermo intero proviamo lo schermo intero no poi proviamo commenti qui sarebbe vedi in diretta i commenti e interagisci con eh sì sarebbe funzionante ma non si sa perché in realtà non si vede va bene allora cari amici vediamo se riesco a vedere questo prima del eh esco da qua faccio così io credo di avere pigiato tutto il pigiabile credo che sia una cosa che non dipende dalla mia ignoranza forse sì ma insomma mi sembra improbabile vediamo qua che cosa mi si dice no mi sa che non posso esservi proprio utile va bene cari amici io credo che purtroppo ci dobbiamo salutare così senza che io dia delle risposte ai vostri interventi non ho idea di come di come si possa fare meglio di così e quindi mi devo fermare ci salutiamo adesso e ci vediamo fra due settimane alle 21 e 30 è stato un piacere passare un po' di tempo con voi a Grazie a tutti.